Un giorno al Facebook! Ma che affan... Il computer! Oh, l'avete fatta giusta a voi il computer, e mica io, eh? No, che ti è studiato adesso, tutti insieme? Guarda, quello che stai dicendo domani lo vedi su Facebook, però mi dispiace per te! Ma tu non ride, perché per te è una brutta fine! Angela! Era sempre curiosa di sapere com'era dentro scritto. Cioè, non l'hai mai visto in vita tua? No, dentro no. Non l'hai letto! No, ma l'hai letto! E vieni se è un mostro, perché non ascolti mai quello che ti sei dice! Da me non ascolti mai! E io mi impegno invece, non mi ascolta mai! Brutto! E' Roberto de Mena? No, no, ma l'hai trovato che è nato quando mi ascolta, perché è nato che lui è il signore, eh? Dai, su, inauguriamo questo nuovo sito del coro! No, col minato! Sì, te ne è il coro? No, no! No, no! No, no! Sì, arrivederci! No, no! Guarda che ci ha messo! Guarda che ci ha messo! Guarda che ci ha messo! Domani, domani è ok! Siamo in pace! Gloria, domani sei finito!